Comunque capivo quello che c'era scritto e quindi anche se leggevo veloce non mi perdevo, non dovevo ritornare indietro a rileggere. Quante volte ti succede di iniziare a leggere qualcosa, arrivare in fondo e chiederti cosa ho letto oppure mentre leggi la testa vaga altrove, ciao, senti dopo un mini corso cosa ha ottenuto Laura. In una sola serata è stato bellissimo perché sono soddisfazioni incredibili sentire i vostri risultati. Ascolta, ascolta, te lo condivido subito, ecco qua, perché la cosa più bella è proprio avere la consapevolezza che con la tecnica giusta posso veramente ottenere molto molto di più. Era fantastico perché comunque capivo quello che c'era scritto e quindi anche se leggevo veloce non mi perdevo, non dovevo ritornare indietro a rileggere. No, è stato molto motivante, sì, cioè ti senti proprio l'autostima molto alta, aumenta. Cioè ti rendi conto in una sola lezione avere la capacità di leggere più velocemente e comprendere di più senza dover tornare indietro, senza dover arrivare in fondo e chiederti cosa ho letto? Per quello ti invito al minicorso di lettura veloce, due ore e mezza in cui raddoppi già in una sera la capacità di lettura. Si fa un test iniziale, un test finale, in modo che concretamente puoi vedere, vedi che amo leggere, ho librerie lì, lì, ho librerie lì, lì, dappertutto. E quindi veramente la cosa bella è poter ottimizzare i tempi, gusti di più, ricordi di più, comprendi di più perché quando leggiamo come abbiamo imparato alle elementari per il cervello si è troppo lenti, il cervello si perde. Quindi non ha senso per un adulto leggere come abbiamo imparato all'inizio del nostro percorso di lettura, ha senso ottimizzare le risorse, avere delle capacità che ci permettono di usare al meglio le cose che abbiamo dentro. Ti aspetto al minicorso di lettura veloce due ore e mezza, unendo da quello di lettura e anche quello di memoria, fai bingo. Due ore e mezza, due ore e mezza per raddoppiare la velocità di lettura in uno e la capacità di memorizzazione e di concentrazione nell'altro. Ciao, ciao, ciao. Ci metto la faccia da 30 anni, ciao.